Forse dell'ordine, ma ognuno... Istituzioni, commercianti, titolari di strutture ricettive, insieme per il patto civico anti-racket, siglato nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. La città combatte a testa alta l'imposizione del pizzo, così la giunta dei magistris, usando una espressione tipica del primo cittadino, ha voluto evidenziare l'importanza dell'accordo siglato a tutela di tutti coloro che, titolari di una impresa, sono vittime di estorsioni criminali. L'Unione fa la forza, questo lo scopo del patto, in quanto la condivisione dei problemi e delle loro risoluzioni rende più forte la società civile e quindi più tutelati coloro che, vittime del racket, decideranno di denunciare le intimidazioni subite. Un accordo nero su bianco che impegna tutti a non sottostare alle violenti imposizioni delle organizzazioni criminali. Ma ascoltiamo in merito il sindaco Luigi De Magistris. Chi attenta alle attività economiche fa un attentato alla città, la città ha scelto cultura, sviluppo economico, lavoro, rinascita. Con questo stiamo vicino alle persone che vengono attaccate per non farle sentire solo. Un patto. Legalità conviene, chi aderisce al patto avrà la solidarietà di tutti, si sceglieranno ancora di più quei luoghi in cui oltre a star bene, ad avere prodotti importanti e di qualità, si è anche una scelta civica contro il racket, l'estorsione e l'usura. Quindi c'è il logo, la gente saprà che se si va in determinati luoghi si va da persone dalla schiena dritta che amano Napoli e che hanno scelto la legalità.